Mio figlio non mi vuole più vedere. Cosa posso fare? Vediamolo in questo video. Ciao, sono Fabrizio Bartolini e sono un avvocato cassazionista, cioè un avvocato che può assistere e difendere i propri clienti in tutti e tre gradi di giudizio presenti nel nostro ordinamento e quindi anche dinanzi la corte di cassazione. Nelle separazioni spesso capita che il figlio non voglia più vedere uno dei due genitori. Di solito, purtroppo, è il padre che subisce questa situazione. Vediamo quindi cosa si può fare in pratica. Il fatto che tuo figlio non ti voglia più vedere è probabilmente perché è messo su dalla tua ex, dall'altro coniuge. Beh, la situazione ti posso assicurare che è più frequente di quello che tu possa credere. Prima di tutto, devo farti una precisazione, perché ricostruire il rapporto con tuo figlio non è un compito che può essere demandato a un tribunale e che non potrà mai sostituirti a te. Questo ti è ben presente. Quello che però il tribunale può fare è intervenire sicuramente e verificare quale siano le effettive motivazioni di questo rifiuto. Si può parlare anche di alienazione parentale. L'argomento e il tema è tanto importante che la recente riforma Cartavia ha dedicato un articolo che è il 472 bis comma sesto proprio a questo argomento. Quando il minore rifiuta di incontrare un genitore, il giudice procede all'ascolto quanto prima e assume le informazioni sulle cause del rifiuto. Questa è una novità molto importante, perché vista l'urgenza della situazione si può persino arrivare a breviare i termini processuali previsti per legge. E proprio la novità introdotta dalla legge ti fa capire la dimensione di questo fenomeno. Perché quando sono segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il rapporto con l'altro genitore, ma anche per esempio con gli ascendenti, nonni e parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice può provvedere allo stesso modo e cioè si ascolta quanto prima il minore e si fanno le opportune indagini. È una novità e una procedura particolare che prima del 28 febbraio non esisteva. Successivamente il tribunale prenderà gli opportuni provvedimenti per fare in modo che si inizi quindi un percorso di riavvicinamento tra genitore e figlio e questo percorso prevederà necessariamente l'intervento degli assistenti sociali. Una cosa che è importante rilevare è che in questi casi, e oggi è previsto appunto come ti dicevo da una norma precisa, mentre in precedenza spesso non si poteva che prendere atto della situazione potendo far poco o quantomeno denunciarlo in un ricorso con però tempi biblici, vedremo appunto ora come i tribunali si conformeranno a questa riforma, sperando che la norma dia più tutela a quei genitori, quindi spesso i padri, che si vedono mettere ingiustamente contro i propri figli. Bene, se ti è piaciuto questo video metti un mi piace ed iscriviti al mio canale per essere informato sui miei prossimi video. Se vuoi contattarmi scrivimi all'indirizzo che trovi qui sotto e seguimi anche sui vari social e sul mio blog sempre all'indirizzo che trovi qui sotto e sarò lieto di assisterti e difenderti nel migliore dei modi. Ciao a presto!